Oggi è la giornata di millumino di meno, ogni anno il comune aderisce, quest'anno il tema non è soltanto l'efficientamento energetico ma ovviamente è anche la pace ed è anche il tema della bicicletta e delle piante, per cui abbiamo voluto inventare questa iniziativa che parte da qui. Questo è un luogo simbolico di Pesaro perché è uno dei luoghi che ha sofferto di più dal punto di vista ambientale negli ultimi 15 anni che finalmente stiamo riuscendo a bonificare e gran parte del lavoro di bonifica lo faranno le piante. L'azienda che ha vinto l'appalto ha preparato nei mesi scorsi il terreno, ora si inizierà con l'arrivo della primavera a piantare le piante e saranno loro che bonificheranno il terreno togliendo gli idrocarburi che ancora sono presenti nel terreno stesso. È una bella innovazione ed è un modo per restituire un luogo verde, un parco urbano al quartiere Porto che ha sofferto molto questa vicenda. Ovviamente è una giornata particolare perché poi con bicicletta arriveremo in piazza e quindi dedicheremo questa fiaccolata alla pace per l'Ucraina nel momento di guerra che sta sconvolgendo l'Europa a fianco del popolo ucraino e con un appello forte per la pace affinché si fermi il conflitto e si interrompono i bombardamenti e le tante atrocità che stiamo vedendo purtroppo giorno dopo giorno. Siamo partiti da qui e piantiamo questa prima pianta, una mimosa, dedicandola anche a Daniele Tagliolini perché sono ore per noi molto dolorose. Abbiamo perso ieri un grande amministratore appassionato che amava davvero la sua terra, in particolar modo le aree interne della nostra provincia. Il presidente di Marche Multiservizi oggi sarebbe stato qua con noi e quindi vogliamo dedicare questa piantumazione a lui perché credo che non ci sia modo migliore per provare a ricordarlo perché per noi è difficile parlarne al passato se non piantando una pianta esattamente come ha fatto lui per tutta la vita, costruendo tante relazioni e cercando di mettere in campo tanti progetti, tante innovazioni per il miglioramento della sua terra. Quindi una giornata triste però noi vogliamo pensarlo insieme a noi e abbiamo cercato di trovare la forza anche per fare una manifestazione che lui avrebbe voluto e alla quale avrebbe partecipato in prima fila. Grazie.